Vado io? Disagi e ritardi in tutta Italia. Questo appunto è accaduto alla stazione di Bologna ma ha coinvolto anche il resto d'Italia. Un incendio doloso ha mandato in tilt la stazione. La circolazione ferroviaria in transito per il nodo di Bologna è rimasta interrotta e registra tuttora forti rallentamenti a causa di un incendio che ha interessato il sistema di gestione e controllo del traffico. Non c'è alcun dubbio sull'origine dolosa delle fiamme su cui indagano polizia ferroviaria scientifica e Digos. Per il ministro Lupi si è trattato di un nuovo atto terroristico con la TAV ma ha aggiunto non ci fermeranno nella strada di innovare e cambiare l'Italia. Queste le parole del ministro e poi c'è anche il presidente del consiglio Matteo Renzi. Vi voglio rassicurare tutti gli italiani non torniamo a rievocare parole del passato. È in atto un'operazione di sabotaggio e verifichiamo quanto è accaduto. Così Matteo Renzi ha commentato l'incendio di Bologna. Stiamo monitorando la situazione. Era accaduto qualcosa di analogo anche se meno importante, scusate, meno impattante nei giorni scorsi in altre città. La stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Dopo l'incendio i ritardi dei treni di alta velocità provenienti da Milano sono stati in mattinata tra i 30 e i 60 minuti. La situazione hanno spiegato dalle ferrovie sotto controllo, soprattutto considerando il movimento di passeggeri del periodo prenatalizio. Ritardi ovviamente anche a Milano. Su un muretto vicino alla massicciata ferroviaria della stazione di Santa Viola a Bologna sono state trovate due scritte vergate con bombolette spray di contenuto no TAV. Le scritte, a quanto si apprende, sembrano recenti. Sono poi stati trovati vari fiammiferi e parti degli stracci utilizzati per l'accensione del rovo che ha interrotto la circolazione ferroviaria. Il procuratore capo di Bologna, Roberto Alfonso, sta seguendo personalmente la prima fase delle indagini e la prima segnalazione arrivata alla polfera è delle 4 e 25. Secondo quanto accertato, 4 pozzetti incendiati si trovano nell'arco di una cinquantina di metri. Le fiamme su tre pozzetti vicini all'alta velocità sono state spente in breve tempo con gli estintori dagli agenti della polizia ferroviaria. Per il quarto pozzetto che interessa invece la linea convenzionale per Milano, l'incendio si è sviluppato in modo più ampio ed è stato domato dall'intervento dei vigili del fuoco. Questi sono i principali aggiornamenti che arrivano direttamente da Bologna. È stato proprio il ministro Lupi a parlare di un atto terroristico contro la TAV dicendo però che non ci si fermerà di fronte a questo. Vedremo poi se nel corso di questa edizione emergeranno anche ulteriori dettagli dalle indagini che sono ancora in corso da parte della Polfer, della Polizia e della Digos. Andando avanti troviamo sempre sul sito dell'ANSA una notizia come abbiamo appreso anche dai quotidiani che riguarda la politica. Si parla di una manovra che ormai è a legge e è arrivato l'ok dalla Camera. Appunto l'Aula di Montecitorio ha approvato la legge di stabilità con 307 voti favorevoli e 116 contrarie. Ovviamente la bagarra del Movimento 5 Stelle alla Camera. Grande assente è stato il ministro dell'Economia per Carlo Pado. Hanno approvato il testo in via definitiva alla Camera rendendo operativo il DDL uscito dal Consiglio dei Ministri del 15 di ottobre modificato nell'esame parlamentare. I punti cardine di questa manovra restano quelli voluti dal Governo che su alcune misure non ha accettato compromessi. A partire dal bonus da 80 euro che viene reso strutturale per la platea inizialmente prevista quella dei lavoratori dipendenti compresi tra gli 8.000 e 24.000 euro di reddito annuo. L'approvazione della legge di stabilità a Montecitorio è stata però caratterizzata dal colpo di coda del Movimento 5 Stelle in una delle giornate più lunghe per i grillini che hanno dovuto vedersela anche con la fuoriuscita dalle loro fila di tre parlamentari. I pentastellati non avevano dato particolare filo da torcere in commissione bilancio né durante i voti di fiducia né nel primo esame dell'Aula. Hanno deciso di smuovere quindi le acque in questo secondo passaggio alla Camera scatenando in più occasioni una vera e propria bagarre mediatica. Nel corso della votazione degli emendamenti tutti respinti 5 Stelle hanno tentato con tre distinti blitz di occupare i banchi riservati in aula al Governo spingendo il Presidente Laura Boldrini ad espellere in varie tornate una quindicina di deputati. Il Movimento 5 Stelle ha poi contestato le misure fino all'ultimo prima sui giochi esponendo cartelli contro il Governo d'Azzardo poi sull'aumento dell'IVA sui pellet dal 4 al 22%. Misure importanti ma mironi rispetto agli interventi della manovra dagli 80 euro al bonus bebè allo stop di rincari di tasi e canonerai fino al rinnovo dell'eco bonus sono molte le norme che influiranno sulle vite delle famiglie. Quindi tanti gli aspetti di questa manovra da esaminare attentamente. Ancora rimanendo sempre in Italia un'altra allarme neofascisti arrestati oggi interrogatori e poi mani intercettati intercettato scusate è giunto il momento di colpire queste sono state le sue parole ma non di colpire alla cieca non tipo la stazione di Bologna la bomba esplosa nel 1980 peraltro non attribuibile a noi quell'opera d'arte vanno colpite banche, prefetture, questure, uffici di Equitalia con i dipendenti dentro. È arrivato il momento di farlo ma farlo contestualmente non a Pescare e poi fra otto mesi a Milano. A pronunciare queste parole inquietanti è Stefano Manni intercettato dal ROS dei Carabinieri nell'ambito dell'inchiesta Aquila Nera che finora ha portato 11 persone in carcere e 3 ai domiciliari. L'indagine ha stroncato il gruppo neofascista avanguardia ordinovista radicato in Abruzzo ma con ramificazioni in altre regioni. Nelle intercettazioni si sente appunto che Manni fa riferimento all'attentato terroristico compiuto nella notte del 4 agosto del 74 a San Benedetto Val di Sambro in provincia di Bologna sul treno espresso Roma-Monaco di Baviera in cui morirono. 12 persone e altre 48 rimasero ferite. Credo che la via dell'Italicus sia l'unica percorribile. I Carabinieri del ROS hanno indagato due anni poi quando Stefano Manni, 48enne maresciallo dei Carabinieri in congeto, stava per mettere le mani sulle armi per compiere attentati significativi e mirati, sono scattati gli arresti. Il gruppo si richiamava agli ideali del disciolto movimento politico neofascista Ordine Nuovo e ponendosi in continuità con le versioni nera degli anni 70, progettava azioni violente nei confronti di obiettivi istituzionali per sovvertire l'ordine democratico dello Stato. Questo quanto si legge proprio nell'ordinanza del GIP Romano Gargarella. Ed ancora tra gli obiettivi con alto indice di fattibilità politici come Pierferdinando Casini e l'ex governatore d'Abruzzo Gianni Chiodi perché senza scorta è quindi facilmente raggiungibile. Ma Manni, si legge nell'ordinanza, istiga i suoi amici a una messa in atto di azioni avversive anche nei confronti del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, del presidente della Camera, dei deputati Laura Boldrini, del senatore a vita ed ex presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti e dell'allora ministro all'integrazione Cecil Chiang. Questi gli obiettivi principali sui quali aveva concentrato la sua attenzione Manni. Internet e i social erano lo strumento primario sia della comunicazione tra gli aderenti al gruppo sia per la propaganda ma il tutto era basato su un doppio binario. Da un lato atti destabilizzanti da compiersi su tutto il territorio nazionale e dall'altro invece un'opera di capillare intromissione nei posti di potere tramite regolari elezioni popolari con la presenza di un loro nuovo partito. Il tentativo era anche riuscito, una delle persone arrestate, Katia Deritis, vice segretario del partito Fascismo e Libertà, nello scorso maggio era stata eletta consigliere comunale nel paese tippio di Poggio Fiorito in provincia di Chieti. Quindi un'infiltrazione anche a diversi livelli politici. Rimanendo sempre nella home page dell'ANSA e andando avanti per vedere le principali notizie di oggi, ritroviamo il camioncino contro la folla a Nantes, gli 11 sono stati feriti, il conducente avrebbe scandito lo slogan alla è grande, l'uomo si è poi inflitto un colpo di pugnale e questo stando a quanto hanno riferito fonti di polizia. Il procuratore ha parlato di un atto isolato e non di terrorismo. Lo sport invece, cambiando decisamente argomento e tornando in Italia, il Napoli vince la Supercoppa e la Juve viene piegata ai calci di rigore con un risultato di 8 a 7 per i partenopei. Si è chiuso questo incontro. Ancora l'addio a Joe Cocker da Idraulico a Star del Blues. Tra i suoi più grandi successi, With a Little Help From My Friends e Unchained My Heart. Il cantante e autore era nato a Sheffield in Inghilterra. Il suo agente ha parlato di una persona semplicemente unica, ha detto che sarà impossibile colmare il vuoto che ha lasciato nei nostri cuori. Parlando di una persona sempre fedele a se stessa, è rimasta come era sempre stata, nonostante il successo. Basta, protagonisti e toghe, lo abbiamo ampiamente visto anche sui quotidiani, queste le parole del capo dello Stato che ha parlato al CSM, vitale azione repressiva dei PM, poi ancora l'autonomia e l'indipendenza dell'ordine giudiziario sono fondamentali e si garantiscono solo con comportamenti appropriati. Di nuovo anche qui sul sito dell'ANSA la notizia che abbiamo appena letto dal sito Rai News, il Blitz de Ross contro i neofascisti che progettavano attentati ai PM e anche infiltrazioni a diversi livelli politici. 14 gli arresti, 50 le perquisizioni che sono state infettuate in tutta Italia. Nessun vetto sul Colle invece, questo per quanto riguarda Renzi e il Cavaliere che apre a un candidato di sinistra. Noi fa sapere Berlusconi guardiamo alla persona, non ha importanza se è quella di una parte o di un'altra. E poi andiamo in Argentina per un'altra notizia di diverso genere, un rango riconosciuto soggetto non umano. Un tribunale della capitale argentina ha concesso l'Abea Scorpus a Sandra, un rango femmina dello zoo di Buenos Aires, considerando che si tratta di un soggetto non umano e non un oggetto con sentimenti e capacità di prendere decisioni. Ora l'animale che vive dietro le sbarre da 29 anni potrebbe essere liberato ed inviato in Brasile. La Camera di Cassazione ha colto un ricorso di Abea Scorpus che sancisce il diritto alla libertà individuale che è stato presentato dall'Associazione di funzionari e avvocati per i diritti degli animali che era stata respinta precedentemente da parte di tribunali di rango inferiore. La richiesta specifica che lo rango può essere considerato un soggetto non umano, già che sebbene non appartenga alla specie umana, mantiene legami affettivi, percepisce il tempo, impara, comunica ed è capace di trasmettere quanto ha appreso e dunque il fatto che sia imprigionata costituisce una violazione dei suoi diritti, questo quanto accaduto in Argentina appunto. Ci fermiamo ancora un istante, una breve pausa e poi di nuovo insieme per le notizie dalla capitale e dai comuni della provincia.